Ciasi paese in basso Italia, io al nord una cosa del genere non l'ho mai vista a parte. Sì, ma è sempre Italia, io ho detto qualsiasi paese in Italia, non è che bisogna specificare il nord e il sud, è sempre Italia. È sempre Italia. Eh. Immigrati Podcast! Signori! Ben ritornati all'ennesima puntata di Immigrati Podcast. Allora, oggi vi porto in un paese fantastico, come sempre, va bene? Quindi, vi esorto a dirmi di quale paese è questa bandiera. Di che paese è? La Bolivia. Qualcosa di arabo. Ok, abbiamo la Bolivia, qualcosa di arabo. C'è la mezzaluna, scusa. Sì, allora, Turbekistan. Ok, tu? Kyrgyzistan. Ho detto tu, Salvatore. Eh, non ho la più pallida idea. Zero. Zero. Questa è la bellissima bandiera del Nepal. Ah. Scusa, ma sei sicuro? Ho fatto la puntata, vedi te? Ma qual è quello col pallino, invece? Però aspetta, ma questi quando sventano la bandiera, quindi come fanno? Cioè, tipo… Se non mi hai messo l'Everest, io ti bacchetto. Non l'ho messo, perché non sono così scontato come te, Scala. Io ti bacchetto. Perché è una cosa interessante. Sai quanto pagano le persone per andare a scalarlo? Pagano 25.000 dollari, ci devi restare 40 giorni perché devi abituarti all'altitudine. Ci sono più di 200 morti. Sì, ho capito, ma se io volevo fare i dati, lascio a te la puntata. Sai qual è il problema che non frequenta nessuno? No, è interessante. Ma quindi, stiamo parlando del Nepal, un bellissimo paese che si trova… In Asia? In Asia. In Asia. Esatto. Ma diamo qualche dato giusto per capire il contesto in cui è immerso questo fantastico paese. Tanto, la capitale si chiama Katmandu. Ah, è vero, Katmandu. Katmandu. È vero, è vero. Una volta che l'ho letto e ho detto, ah, cazzo mio, ce l'avevo in mente questa città. Katmandu, la moneta è la bellissima rupia, poi si parla il nepalese, grazie, che è tipo un mix di indiano, eccetera, eccetera. Sono quasi 30 milioni di persone ed è grande più o meno la metà dell'Italia, quindi quasi sei delle nostre regioni più grandi. Iniziamo quindi con la vera e propria puntata. La bandiera, secondo voi, perché la bandiera è così strana, è così unica? Mi sembra biforcuta la lingua di un… Biforcuta. A me ricorda la lingua di una lucertola. Il Team Rocket. Potrebbe essere che simboleggi l'unione di più etnie. Basta. Tecnicamente no. Allora, quella sopra è la fusione tra il sole e la luna, quindi è un'unione di qualcosa. Quella sotto invece è solo il sole, quindi il sole più grosso, quindi il sole più grosso sono loro e il sole e la luna sono loro con qualcun altro, insomma, penso. Questa è molto romantica da parte. Ma comunque andiamo a vedere… È corino. Andiamo a vedere effettivamente perché la bandiera è così. Intanto è l'unica bandiera al mondo che non è né rettangolare né quadrata. È tipo uno standardo. È questa cosa. È l'unica. Se vi state chiedendo quali sono le bandiere quadrate, sono quella della Svizzera e della città del Vaticano. Tutto il resto del mondo sono rettangolari. Esatto, esatto, esatto. Quindi è formata da due triangoli, uno sopra l'altro, dove ogni triangolo rappresenta una delle due dinastie della famiglia reale, che si chiama famiglia Rana. Non so se è quella che fa… Ah, perché hanno dato il bacino alla rana. La di Giovanni. Non so se è la famiglia di Giovanni Rana. Hanno i tortellini. Esatto, che sono così ricchi che si sono comprati il Nepal. Non so sicuro. Eh, può essere. Può essere, può essere, ma non si sa. Ma comunque, perché è interessante questa bandiera? È interessante per due motivi. Il primo è che se tu la guardi dritta, sembra, o meglio, rappresenta una pagoda. Sapete cos'è la pagoda? No. È il classico edificio. È un edificio. Quello cinese, giapponese, quello che così. Ok, ok, ok. Ok, è una sezione di una pagoda, se tu la guardi, va bene. Se invece tu la prendi e la giri, ok, cosa diventa? Divente, esatto, la forma delle montagne imalaiane. Bellissimo. Ma perché non si sono fatti una bandiera rettangolare con la forma, no, dell'Himalaya, quelle che volevano? Perché in realtà… C'erano i soldi per farla rettangolare? No. Dovano andare a risparmi? No, no, per tradizione. Per anticonformismo? Non proprio. No, non proprio. Perché praticamente, prima del colonialismo europeo, in Asia, le bandiere erano triangolari. Erano triangolari, va bene? Eh sì, erano triangolari tutti quanti. Quindi, dato che appunto erano due fazioni, si sono unite e quindi due triangoli. E quindi io qui vorrei farvi una domanda. Secondo voi, se noi potessimo trasformare la bandiera italiana in una bandiera triangolare, cosa ci mettereste? Anterremmo triangolare, per tipo, nel loro caso invocavano il, come si chiama, i monti imalaiani. Però noi, che forma ci daremmo? Forma di pizza, allora. È circolare, è vero. Una bella pizza. È pizza margherita. È pizza margherita. La bandiera deve essere solida e non sventolante. Sì, perché deve essere un mandolino. L'asta deve essere un mandolino. Così siamo al perfetto stereotipo. Puoi fare una pizza, una pizza col sugo rosso, la mozzarella bianca e la lattuga. Il basilico. È il basilico. Ma perché era la lattuga? No, no, anzi, la bandiera deve essere bianca e deve essere poi riempita con gli ingredienti. Un contenitore di plastica, un terzo di sugo, un terzo di mozzarella e un terzo di basilico. Sì, e dopo si unisce tutto. Come chiamava il governo? Secondo voi, in questo fantastico, fantasciomagorico paese, che cosa c'è? C'è più di un governo, non ce n'è solo uno, sono varie fazioni. Ok? Non c'è un governo. Così, anarchia assoluta, gente che ci spari. Governa la religione. Poi? Non sono accordo con Gibbo. Governa la religion. E invece no, e invece no. Attenzione. Ma che cosa è successo? Allora, partiamo dal fatto che, dicendo che attualmente è una repubblica federale democratica. Va bene? Quindi non sono più etnie che comandano, non comanda la religione, eccetera, eccetera. Ma prima è successo un fattaccio. Cos'è successo? Prima, quando era una monarchia, questo paese, che cazzo leggi? Ma perché leggi? Che cazzo leggi? No, in realtà stavo guardando il vuoto, però… Prima di diventare una repubblica, questo paese, era una monarchia, ok, ma c'era una famiglia reale, quindi. Ma nel primo giugno del 2001 avvenne il famosissimo massacro dei reali nepalesi. Ma tu che cazzo ridi? Ce lo dici ridendo, ma sono morti. Ho capito, ma stiamo parlando di storia. Ma perché lo devi dire ridendo? È successo. Praticamente il principe ereditario Dipendra. Dipende. Poi Dipendra da dove… Dipendra. Esatto. Dipendra. Ha ucciso dieci dei membri della famiglia reale, incluso… Dipendra è quello del primo a sinistra, che vedete in alto, va bene? Sembra Kim Jong-un. Ha ucciso il re, che si chiama Birendra, va bene? E la regina, che si chiama Aizywaria, va bene? Almeno. Ok. Dopo che li ha uccisi, è andato in coma. Aspetta, no. Allora, ha premuto un pulsante sulla sua schiena… Ha ucciso tutti i suoi parenti? Dieci della famiglia reale. Ok, ma… Voleva rimanere da solo. E poi è andato in coma. Ah, ma così. Allora… Dallo shock. Allora… Restreaction shock. No, relax. Allora, le informazioni che ho trovato aveva questo passaggio brusco. Cioè, tipo, lui ha coltello, ucciso tutti, e poi in coma. Possiamo dirlo allora a salvo? È una fake news. No, no, no. È così. No, no. Può essere vero. Vabbè, ho capito. È andato in coma, ma come? Semplicemente non si sa esattamente cos'è successo. Hai capito? Non si sa. Infatti, quando lui è andato in coma, il popolo è andato… In coma? No. È andato per strada a protestare perché volevano sapere che cazzo fosse successo lì. Va bene? E quindi si dice che il governo che c'era all'epoca, le persone, hanno deciso di incoronare… Come cazzo si chiama? Dipendra in coma. Va bene? Bene, che però dopo tre giorni è morto. Andiamo avanti. La Kumari. Che cos'è secondo voi la Kumari? Ammazzato tutti con quelle mani. La Kumari è una spezia. Che cos'è secondo voi la Kumari? No, aspetta. È una compagna. Infatti… È una compagna. È una compagna. No. Vabbè, no, sono spezia. La Kumari… Sono… Spezia, spezia. Sì, sì. La Kumari di… No, allora, la Kumari… Vi ho ingannato, vi ho triccato con una foto di spezia. In realtà è una dea in terra. Ah, ma come il Dalai Lama. Ma questa è una bambina, però. Il Dalai Lama… Sì, ma questa è una bambina. Sì, però il Dalai Lama… Sì, mi spiego. Quando muore, ha il suo successore che può essere già un bambino. E quindi lui in teoria si… Per la fede si reincarna sempre nel corpo di un'altra persona ed è considerato come un dio. Come cazzo fanno a sapere chi è? È considerato o è un dio? Considerato. Perché la Kumari è letteralmente una dea scesa in terra. Questa Kumari… No. La Kumari è una dea scesa in terra. Perché questo? Praticamente come i cristiani hanno Dio, va bene? Loro hanno Kumari che è la loro… Quindi si incarna… Sì, ma è una bambina. È una bambina. È al terzo occhio. Come funziona? Come funziona, ok? Funziona che viene scelta una bambina tra le bambine che fanno parte della casta… Viene scelta una bambina fra le bambine che fanno… Ho fatto una voce strana. La casta viene scelta una bambina. Ah, scusate. Perché viene scelta una bambina? Ci ho fatto caso. Scelgono una delle bambine che fanno parte delle caste buddiste, ok? Delle famiglie dell'etnia che si chiama Newar. Una volta che è scelta, che succede? Lei diventa letteralmente una dea. Quindi smette di andare a scuola. Smette di vedere i suoi parenti se non in veste istituzionali. Non tocca mai il terreno con i suoi piedi. A meno che non sia dentro la sua reggia, i suoi appartamenti. Quando è che si può vedere però questa dea? Durante una processione che viene tenuta ogni anno e che dura tre giorni a Kathmandu. Dove appunto lei non può toccare il terreno. E quindi, come potete vedere nella foto, viene portata su questo… Come si può chiamare? Il carretino. Esatto, questo carretino. Come noi vediamo… Adesso non stupiamoci tanto perché se vai in qualsiasi paese in Italia, la madonnina te la portano ancora… Col carrettino. Col carrettino, no? Con le processioni lunghissime. Allora, qualsiasi paese in Italia, no. No, non ho detto qualsiasi paese. Qualsiasi paese in Bass'Italia. Io al nord, una cosa del genere, non l'ho mai vista fare. Sì, l'ho capito. È sempre Italia. Io ho detto qualsiasi paese in Italia. Non è che bisogna specificare se è il nord e il sud. È sempre Italia. È sempre Italia. È sempre Italia. È sempre Italia. E quindi succede questo. Ma quando è che smette di essere una dea? Ha le sue prime mestruazioni. Appena non è più pura… Ok. Appena non è più pura e gli vengono le prime mestruazioni… Ma che schifo. Ma questa non sa un cazzo della vita. È una bambina. Gli fanno fare la dea. Quindi scusa, questa la prendono… E poi quando inizia a capire qualcosa magari non è più… Posso dire che mi sembra una stronzata. Aspetta, la prendono a cinque anni e a undici la buttano via. Non è più una dea. Non è che la buttano via. Praticamente… Viene sostituita, però… Perché è? Non è indifferenziata. Tu prendi una bambina di cinque anni. Non è l'organico. La trasformi in una dea, non le fai studiare un cazzo, non le fai vivere. E poi a undici anni che cazzo fa nella vita? C'ha undici anni, non ne ha quarant'anni. Sì, ma ti ho passato sei anni… Aspetta, in pratica quando una dea smette di essere una dea, che succede? Viene dismessa, tranquillamente. E fa la sua vita, ripresa la sua vita. Non solo, gli viene garantito un vitalizio a vita. Ah, amico caro! Ultimamente, dagli anni settanta, queste ragazze rimangono poi vergine per il resto della vita proprio perché c'è questa diceria che l'uomo che la sposa, la va a sposare, muore dopo un mese. Perché ormai la dea se n'è andata via e si è incarnata in un'altra bambina. Ah, giusto, giusto. Ed è molto interessante anche vedere, quando ci sono queste processioni, loro guardano quello che fa e secondo me è anche un po' terribile. Praticamente, se lei ha dei tremori, questo significa una cosa, un tipo di sciagura. Se lei piange, c'è un altro tipo di sciagura. Se lei, prima di scegliere, non so, se le danno un banchetto di offerte, lei sceglie, ok, perde tempo a scegliere, questo significa che ci sarà una disgrazia economica. Vabbè, questo loro fede, su questo non possiamo discutere. Però sappiamo che, qui c'è un po' di feticismo, però sto scherzando ovviamente, molte persone toccano i piedini per chiedere di esprimere alcune idee. Quindi si può toccare? Eh? Si può toccare la dea? Da quello colletto solo i piedini. No, a parte il fatto che sembri un pervertito. Perché si può toccare? No, posso toccare la dea. La posso toccare. La posso attingere alla dea? Quindi, maleducazione, soffiarsi il naso. Io non posso andarci. No, tu saresti già morto. Io ovviamente non posso. Non puoi soffiarti, non è molto educato. Se lo vuoi fare, lo fai piano e con discrezione. Vabbè, tipo… Vabbè, ok, non esce nulla. Scavi nel naso. Vabbè, però in compenso puoi ruttare liberamente. Posso invece di soffiarmi il naso e fare… Tirare dentro. Vabbè. Lui, nepalese, se fossimo stati in Nepal… Uè, come vai, complimenti! Ora, voi vi starete chiedendo, ma il tuo format di YouTube qui è immigrare. Tu non ci hai parlato di immigrazione. Se tu ci vai per le infrastrutture, si è messo male. Diciamo che… Sei uno sfigato. No, diciamo che l'elettricità non è sempre garantita tutto il giorno. C'è molto inquinamento nelle città principali. C'è molto inquinamento. L'acqua non è potabile. Ok. I trasporti sono terribili. E soprattutto, dato che comunque sei spesso in montagna, non ci sono alcune volte anche i trasporti. Gli ospedali sono al di sotto delle medie nazionali, ok? E questi, diciamo, e anche la tecnologia, anche a livello economico, sono molto poco sviluppati. Si basano soprattutto sull'agricoltura. Quindi, su questo aspetto qui, immigrare proprio lì è un po' terribile. Alla luce di tutto ciò, voi immigrereste nel Nepal? No. Io non posso sternutire, cazzo. Non posso fermi il naso, che devo fare? Nepal. Io andrei lì, non per vivere, ma per fare la scalata delle sette vette, ma vivere in Nepal no. Io non ci andrei, non mi interessa niente. Io andrei solamente in vacanza, ma non per immigrare. Di te sarò domani stesso un biglietto? No, lo so. Non lo so, magari. No, non è quello che c'è. Ci stessi sopra. Lo prendo e lo rivendo. A te. Immigrati Podcast